Cercasi estate leporanese 2020 e questo lo slogan, così la locandina provocatoria, affissa da Yolanda Lotta, consigliere comunale di opposizione di Leporano, eletta nella lista Lotta per Leporano. Consigliere, è certamente una provocazione. Quali sono le ragioni alla base di questa scelta? Niente, sono circa quasi 20 anni, io dal 1996 che porto avanti una rassegna estiva denominata estate leporanese ed estate leporano. Leporano nel 2020, l'estate leporanese ancora non è pervenuta. Dopo 20 anni di successi, di serate culturali, di eventi artistici di successo che hanno dato modo a Leporano di essere un punto di riferimento di tutta la provincia ionica, registriamo che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco dottor Damiano non ha programmato nessun evento per quest'estate. È chiaro che verrà usata come giustificazione la pandemia, ma è anche vero sottolineare che tutta la provincia ionica, i comuni hanno organizzato eventi estivi nel rispetto del protocollo di sicurezza. Cosa non ha funzionato a Leporano? Organizzazione, competenze, idee o quant'altro? Già l'anno scorso la stessa amministrazione aveva registrato due record, la stessa maggiore, la spesa maggiore negli ultimi cinque anni per l'organizzazione della rassegna circa 80.000 euro e il collessale flop delle poche serate organizzate, dove pochissimi cittadini e turisti hanno partecipato. L'amministrazione aveva indetto un bando per la ricerca di un direttore artistico. Dopo aver selezionato una ditta, lo stesso avviso poi è stato annullato, come altri provvedimenti amministrativi, che risultano non pervenuti, come il 110, per il dirigente dell'ufficio tecnico, il concorso dei vigili urbani, la sostituzione dei dipendenti, che in queste settimane stanno andando in pensione. Ultimo, ma non per importanza, è che il sindaco e la sua amministrazione hanno ridotto di molti il contributo al comitato festeggiamenti Sant'Emilio, mettendo in grosse difficoltà gli organizzatori. E' triste vedere in queste condizioni l'abbandono a se stesso del territorio, di Leporano, senza una luce, senza eventi, senza manifestazioni. E confidiamo in un futuro migliore. Bene, consigliere, lei ha esposto questa situazione, diciamo di questa vicenda dell'estate leporanese del 2020. Se ne sta parlando da tanto, noi ovviamente siamo una realtà libera e quindi come abbiamo ascoltato la sua opinione, ascolteremo quella di altri consiglieri di opposizione, di maggioranza, del sindaco, proprio perché è giusto far sì che ognuno possa dire la sua, proprio perché Polifemo è, ricordiamolo sempre, l'informazione libera della città. Quello che voglio dire è che purtroppo tanta gente viene da me dicendo Iolanda, come mai quest'anno Leporano è proprio morta, non c'è anche le attività commerciali. Le attività commerciali del territorio sono veramente spente. Ho fatto delle foto del territorio durante la sera dove è veramente un paese desolato, dove prima c'erano migliaia di persone che arrivavano da ogni parte della provincia per venire a Leporano, c'era il passeggio, ma adesso proprio veramente già dall'anno scorso c'è una desolazione. Io qui ho messo a disposizione dal 1996 al 2018 una rassegna stampa dove si evince tutto ciò che abbiamo fatto in questi anni. Tanto abbiamo fatto addirittura 60 manifestazioni che iniziavano da giugno e terminavano la metà di settembre. Quest'anno invece non c'è niente. Mi dispiace per i Leporanesi, per quello che avevamo costruito in questi anni, che dire.